Il Barcellona è la squadra più forte del mondo Io amo Barcellona, per me vuol dire tanto Oltre ad essere una città stupenda, mi ha dato molto In quel poco tempo che l'ho vissuta, mi ha coccolato, protetto e cresciuto Mi sentivo libero, ero libero Mi sentivo parte della città Mi sono innamorato fin da subito della loro cultura Del senso di libertà, della cultura per il cibo, della passione per il calcio Tutte cose che mi appartenevano già Pensavo che non si potesse trovare il senso di libertà in un museo Eppure mi sbagliavo Non tutti i musei sono noiosi come noi ragazzi diciamo Alcuni riescono a farti apprezzare le opere E ti lasciano tempo per guardare Tempo per riflettere e libertà di parlare tranquillamente Questo senso di libertà posso dire che l'ho trovato al Museo Bego di Castel Fiorentino Dove ho potuto assistere a un'uscita didattia da parte dei bambini in una scuola materna del paese In quel momento ho visto dei bambini felici Che ridevano, che si divertivano Dentro al museo Senza paura di essere sgridati Si sentivano liberi Non me lo sarei mai aspettato È stata una cosa bellissima Che mi ha molto sorpreso Perché non immaginavo che un museo potesse rendere liberi e felici dei bambini Ma anche dei ragazzi della mia età Ecco Questo per me è libertà E per te? E per te?